Quello che c'è nel piano è sostanzialmente un lavoro di ordinaria manutenzione della città che gli uffici sarebbero stati in grado di fare anche da soli. Se lasciavamo gli uffici senza guida politica avrebbero fatto più o meno quelle cose. Bocciatura su tutta la linea. E' questo il giudizio che l'opposizione bassanese rifila al piano triennale delle opere pubbliche presentato dalla sindaca Elena Pavanna e dall'assessore Andrea Zonta. E nel faldone finiscono ancora una volta le grandi incompiute bassanesi. Sul piano degli obiettivi se andiamo ad analizzarli dal teatro Astra all'ex Santa Chiara all'Amazzini all'ascensore agli annunci anche di cose nuove non vediamo assolutamente niente di realizzato e soprattutto né di realizzabile nel breve periodo. Quindi c'è una bocciatura totale. Per l'opposizione è mancata una guida politica sul versante delle opere pubbliche in un periodo in cui fondi e possibilità arrivano invece a dare una mano alle amministrazioni comunali. Quello che è mancata è la guida politica rispetto alle scelte da fare. Non sono mancate le opportunità dal punto di vista normativo e dal punto di vista dei fondi perché abbiamo vissuto paradossalmente dopo il Covid un periodo di forte semplificazione delle procedure amministrative e anche di capacità di attrarre fondi. Bastava avere idee e progetti. Loro non sono stati in grado di fare questo. Quindi la bocciatura è una bocciatura tutta politica sulla incapacità di questa amministrazione di portare a termine le opere pubbliche. La guida politica delle opere pubbliche e delle scelte strategiche che per le minoranze è mancata negli ultimi cinque anni pone un sindaco o un assessore nella posizione di poter decidere e di dover decidere in modo indipendente. Insomma una figura terza rispetto a pressioni e richieste. Eccezione fatta ovviamente per quelle che vengono dalla città stessa, dai cittadini. Questa amministrazione non ha fatto assolutamente questo, è sempre stata debole con i forti e in qualche maniera indifferente nei confronti dei deboli, mettiamola così, nel senso che si è fatta sempre condizionare da chi tentava di imporre l'agenda all'amministrazione e poi di fatto però è naufragata perché la città ha risposto in maniera negativa. Vediamo quello che è successo a San Lazzaro ad esempio.